Sono Daniele Molmenti, campione del mondo di canoa slalom. Quest'anno in mondiali la qualificazione olimpica sarà a Bratislava, la capitale della Slovacchia. In questo paese vivono eroi del questo sport come Michael Martica, il fratello Cioner e la mitica Elena Calisca. Non peraltro sono i più forti al mondo. Qui la canoa è come il calcio da noi. Se a settembre volete vivere emozioni uniche, dovete unirvi alla squadra italiana e venire a fare il tifo per noi. Se a settembre volete vivere emozioni uniche nel capitale della canoa Bratislava, unitevi al gruppo dei fan italiani e venite a fare il tifo per noi. Abbiamo bisogno anche di te.